Clamoroso a Selvapiana e l'Alba Longa, la prima a violare il terreno di un campopasso che cresce notevolmente sotto il profilo della prestazione ma non riesce a dare il colpo di grazia ai romani che vincono con D'Agostino e Cardella, due gol causati da due errori dei singoli. La prestazione di Rosso Blu è confortante e forse troppo tesa nel secondo tempo. Dopo il raddoppio ospite la squadra accusa un pesante contracolpo psicologico. Dirige il signor Castellone di Napoli che assegna tre calci di rigore nella stessa gara. In tribuna Tengorang fresco di operazione al menisco. Al terzo la conclusione di Esposito è prima smorzata da un difensore ospite poi alzata in angolo da Santilli. Buon avvio del campo basso che aggredisce l'avversario schierato con due punte da D'Agostino e Cardella al tredicesimo da Esposito sulla corsa di Van Zand che mette in mezzo senza incontrare deviazioni rosso-blu. Il pressing campobassano porta i suoi frutti al diciottesimo. La difesa ospite va in imbarazzo con Gaiardini che effettua un passaggio sbagliato verso Van Rasbeck che è costretto a commettere fallo su Ladu. Per il signor Castellone è calcio di rigore. Dal dischetto va Esposito che prima si fa respingere il tiro da Santilli poi è bravo a ribadire in rete. 1-0 per il rosso-blu. Parziale meritato si rivede il campo basso con più smalto del solito. Al ventinovesimo il primo approccio pericoloso dei laziali con il sinistro di D'Agostino che batte a lato. Al trentunesimo da un contropiede mal sfruttato dalla Cinzia parte un rapido contropiede del campo basso con Menna che allarga per Bontà il quale coglie il palo pieno. L'azione poi prosegue con Van Zand che riesce a smistare dalla sinistra ed è lo stesso Bontà che stavolta alza di testa a pochi metri sopra la traversa. Il campo basso sfiora tante volte il raddoppio senza coglierlo. Al trentaquattresimo è Esposito che approfitta di una difesa romana troppo alta e si invola verso la porta ma trova la parata di Santilli che rimedia anche nella seconda circostanza. Deve passare solo un minuto per l'azione di Candellori che smista per Vitali. La palla è toccata da Di Cairano che sana la posizione del giocatore rosso-blu ma al centro c'è la scivolata risolutiva di Gagliardini che appara dell'Alba Longa. Deve cambiare al trentanovesimo fuori l'infortunato Di Cairano dentro Traoré quasi al quarantatresimo. Da una punizione lontana di Mvarransbeck la palla viene colpita da Van Zand. I romani reclamano un tocco di braccio da parte del difensore di casa ma l'arbitro non interviene. Nel finale di tempo due angoli consecutivi per gli ospiti entrambi battuti da D'Agostino. Il primo allontanato da Raccichini e sul secondo il portiere non è altrettanto bravo a respingere anzi subisce il gol del pareggio l'autore proprio l'ex di turno Stefano D'Agostino. A fine primo tempo uno a uno tra Campobasso e Cinzia al Balonga con un parziale che non rispecchia l'andamento della prima frazione. Con le immagini di Francesco Di Rienzo siamo nella ripresa quasi al quarto e il destro di Fabriani si spegne sul fondo. Sesto sugli sviluppi di un angolo battuto da Esposito. In area c'è primo uno scontro fra Bontà ed un avversario. Successivamente anche un braccio da parte di Traore. Viene punito proprio questo tocco galeotto del giocatore romano. Direttore di gara che indica il dischetto. Secondo calcio di rigore per il Campobasso e Esposito. Dai 11 metri spiazza Santilli ma coglie il palo. Si rimane uno a uno. Il secondo tempo vede un Campobasso più arrembante. Il tecnico ospite a vicenda Rosania per far entrare Panaioli. Il Campobasso ed Esposito chiedono addirittura il terzo penalty di giornata al ventiquattresimo. La spinta di Maiocchetti. Sullo stesso Esposito viene però giudicata regolare. Al ventisettesimo Bontà. Pescabene Rossetti che conclude con il sinistro a lato. Chiede l'angolo ma non lo tiene. Cudini cambia due piedini al ventottesimo. Fuori Vitali e Ladu dentro Mancini e Cogliati. Rosso-Blu a trazione anteriore anche se i cambi non porteranno i frutti sperati. Cogliati passa a destra al trentaduesimo break dei Romani con brivido con Raccichini un po' incerto nell'uscita su Cardella che lo anticipa ma non ne approfitta. La Cinzia rimane un avversario abbastanza inoffensivo a Selvapiana anche se al trentatresimo succede l'imponderabile in uno dei rari spunti ospiti dal mazzi a terra Van Rasbeck e il direttore di gara segna un calcio di rigore ai Romani. Dal dischetto va Cardella che riesce a bucare Raccichini nonostante il tuffo del portiere di casa. Incredibile Cinzia Albalonga in vantaggio con il minimo sindacale. Al quarantunesimo ci prova da fuori Rossetti con la palla che non esce di molto. Cudini cambia ancora dentro anche Zammarchi al posto di Candellori. Qualche secondo più tardi il calcio di punizione di Cardella termina alto sopra la traversa. Vengono comandati cinque minuti di recupero nei quali accade davvero poco anzi sono i Romani a sfiorare concretamente il terzo gol. Al quarantanovesimo con Cardillo il cui tiro termina a lato davvero di un soffio. A fine gara confronto definito sereno dal tecnico Cudini con la squadra. Giovedì match clou in quel di Notaresco con la seconda della classe.